benjamin franklin diceva non sciupare il tempo perché è la sostanza di cui la vita è fatta e noi anche se a volte ci sembra di essere fuori tempo proprio questo non vogliamo fare sprecarlo questo tempo benvenuti benvenuti a tutti ed è proprio forse proprio vero che c'è anche del senso nella rete ma chissà ascoltiamo paolo pugni con il suo caffè cosa ci dice a questo proposito buongiorno un buon caffè aumenta in misura il numero di persone sul web che offre e ottiene dei buoni clienti offre dicevo un aiuto psicologico un aiuto personale un aiuto per gli altri ci si propone non tanto come coach professionale ma come life coach coach della vita ti insegno a vivere insegno a ritrovare la forza in te stesso ti insegno a ritrovare il senso di quello che stai facendo e questo ci dice che in fin dei conti abbiamo per forza bisogno di trovare un senso anche se abbiamo cercato di cacciare via tutto quello che ci dà senso nella vita perché più grande di noi e ci definisce e ci qualche modo determina ci fa capire ci dà delle leggi alla fine andiamo cercando un senso perché senza senso non sappiamo cosa fare non sappiamo neanche amare noi stessi e allora ecco che ci sono gli psicologi i coach olistici tutta una serie di persone che in buona fede indubbiamente cerca di proporci la soluzione dandoci una chiave per leggere il nostro mondo ed è curioso che nel fare tutto questo siano presenti tante figure ma non quella di chi ci dà una guida spirituale una guida religiosa perché anche lì si può trovare il senso se lo voglio cercare forse anzi è il posto dove lo cercherei per prima voi vi siete fatti questa domanda come mai appunto proliferano queste persone che ripeto con buona fede con anche dei buoni risultati alcuni li conosco una profonda stima stanno dando delle soluzioni stanno cercando di dare delle soluzioni a una valanga di gente che le sta chiedendo sono più questi secondi che in qualche modo mi fanno riflettere che non i primi questo bisogno di trovare il senso buongiorno e buon caffè ciao alessia allora in veste di artista perché sei autrice e anche illustratrice mi occupo tanto di scrittura quanto di disegno perfetto di un libro che si chiama un invito poi un viaggio diario appunti disegni di una settimana in terra santa insieme ai the sun chi sono qualcuno si dirà i the sun sono una band rock giovanissimi nata in realtà da dalle ceneri per così dire o meglio dall'evoluzione di un'altra band che sono i sun hits ours e hanno organizzato questa esperienza di viaggio in terra santa che ha coinvolto oltre 220 giovani anche meno giovani da tutta italia quindi è stata la particolarità di questo viaggio che non è stato un viaggio magari diocesano o di una parrocchia ma riuscita a mettere insieme persone provenienti da un po tutte le regioni dalla sicilia al veneto all'estremo nord e poi la musica che lega anche no tu sei dicevamo anche sei un artista perché questi disegni che sono poi all'interno di questo libro sono proprio tuoi sono schizzi pensa come è stato realizzato nelle vesti di un diario sa come disegni allora sono schizzi li vorremmo fare tutti insomma sono bellissimi particolarissimi un bel tratto e anche i testi sono tuoi in questo caso e la cosa bella che poi insomma lo presenta bene anche sua eccellenza monsignor nunzio gallantino quindi insomma un tocco in più si è stato molto gentile si è prestato a scrivere la profazione allora ci dicevi racconta di un viaggio in terra santa qual è stata la la cosa più bella che poi ti ha lasciato tutto questo lavoro si è stato in realtà un viaggio molto particolare oltre a essere organizzato da una band quindi fatto un po anche all'insegna della musica perché poi la serata finale a betlemme c'è stato anche un concerto che ha coinvolto anche gli stessi abitanti di betlemme è stato seguito da tv 2000 tra l'altro io proprio facevo il diario di viaggio eravamo io altre persone a fare un dei collegamenti giornalieri oltre poi a tutti i partecipanti al pellegrinaggio quindi da qui ho pensato fosse bello poi raccontarlo a chi non c'era stato non solo perché si trattava di un viaggio particolare in sé no diverso dal solito pellegrinaggio ma anche perché comunque ho pensato che fosse necessario testimoniare anche una situazione che quella israelo palestinese che arriva da questa parte del mediterraneo spesso in maniera un po incompleto faziosa quindi anche raccontare realtà come il muro che c'è a betlemme effettivamente noi non è che conosciamo più di tanto si ne sentiamo parlare ma di fatto oltre che vederlo un'altra cosa ma di fatto comunque anche io prima di andarci non ero nonostante fossi abbastanza informata sulla questione non ero consapevole comunque dell'esistenza di qualcosa del genere che veramente fa diventare betlemme nella fattispecie ma poi un po tutta la palestina una prigione a cielo aperto per migliaia di persone insomma per chi non c'è andato ancora non c'è andato sentire questi racconti insomma avere anche l'idea reale di quello che avviene chi è che può comprarlo questo libro perché poi diciamo che c'è anche un altro fine sì esatto un fine molto importante perché tre euro per ogni copia venduta vengono devoluti in beneficenza al caritas baby hospital che è l'unico ospedale pediatrico che c'è in palestina si trova a betlemme ovviamente non è un ospedale per soli palestinesi tutti possono essere accolti però è stato importante realizzare questa opera ed è importante sostenerla perché di fatto poi palestinesi molto difficilmente possono andarsi a curare a gerusalemme in israele dove ci sono tecnologie per l'avanguardia quindi aiutare comunque un ospedale che ha bisogno di crescere di comprare attrezzature per essere sempre più all'avanguardia insomma penso sia qualcosa che deve essere di cui si deve parlare questo titolo perché riprende il verso di una canzone di the sun che si chiama proprio betlemme che è stata scritta penso in occasione del loro primo viaggio in terra santa quindi poi ho chiesto se potevo prendere il titolo della diciamo il verso della canzone ma che poi anche il titolo dell'iniziativa stessa a suo tempo venne denominata così un invito poi un viaggio perfetto noi potremmo fare anche da tramite insomma per arrivare a raggiungere un bel un bel traguardo con questo libro speriamo perché sicuramente più si ande libro più si aiuta anche l'ospedale insomma ed è quello che serve è un obiettivo importante e poi insomma da leggere anche da leggerlo ai bimbi che sono a casa magari in una giornata in cui si è tranquilli può far piacere un invito poi un viaggio di alessia roberta scopece la presentazione di monsignor nunzio galantino edizioni il castello tantissimi auguri a te alessia grazie alessia grazie a te grazie a te noi continuiamo mi trovo con padre rosario messina assistente dei medici cattolici della sezione di manfredonia qui in questa contrada a macchia contrada una frazione di monte sant'angelo sempre fa parte della diocesi di manfredonia vs e san giovanni rotondo perché ha un importante annuncio da dare ci prepariamo ci stiamo avvicinando alla data della conversione di san camillo e ovviamente questa croce che portate sul petto è simbolo è un richiamo forte padre rosario il motivo principale per cui insomma ci dobbiamo preparare bene anche a questo evento sì io in verità sono stato inviato in questa comunità principalmente per far conoscere san camillo per il suo messaggio il suo carisma ma soprattutto anche per valorizzare il luogo dove lui si è convertito pochi di questa zona di san giovanni rotondo e di manfredonia conoscono questa circostanza che camillo sbandato disoccupato si è trovato a chiedere l'elemosina davanti alla chiesa di san domenico perché si era giocato tutto alle carte lui era militare di ventura aveva 25 anni era disorientato ma soprattutto era ecco tutto quello che guadagnava facendo il servizio militare lo sperperava se lo giocava a carte in genere vinceva ma a napoli lo squadrarono e perse tutto e fu talmente arrabbiato e seccato perché era conosciuto come bravo giocatore alto due metri e tre centimetri a napoli perse tutto e non e volendo continuare ancora per tentare tutto per tutto si giocò la camicia e la perse si giocò i pantaloni e li perse e rimase mutante a 25 anni e da lì iniziò il suo cammino ecco di cambiamento e allora da 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 così da quello che è stata la chiesa di san domenico dove era a chiedere l'elemosina è diventato manovale presso il convento dei cappuccini a manfredonia da manovale è diventato ecco così un po amante o ha cominciato a capire il senso della sua vita e quindi ha cominciato a cambiare vita i frati lo hanno mandato con l'asino a portare delle masserizie al convento di san giovanni rotondo che era appena aperto a quel tempo siamo nel mille praticamente 570 80 e padre angelo lo prese a braccio la sera stanco del viaggio e gli fece una predica lunga un'ora e mezza sotto il pergolato che ancora esiste nel convento e quel discorso lo mise in subbuglio interiore in crisi spirituale non dormì tutta la notte primo febbraio 1575 la cella numero 5 poi abitata da padre pio da san pio da pietra alcina ecco quella notte assistito a questo travaglio a questo subbuglio che poi è scoppiato esploso tornando a manfredonia nella valle dell'inferno allora vi parlerò a lungo in altra occasione che avremo tempo per capire la bellezza di questo momento di conversione ma anche la valorizzazione di questo luogo che sta diventando appunto di così di pellegrinaggi come avviene ogni anno il 2 febbraio oggi diciamo che approfittiamo anche per dare degli appuntamenti visto che ci stiamo avvicinando e sono una serie di appuntamenti sempre in prossimità della data di conversione il 2 febbraio che vedranno partecipi insomma non soltanto i devoti di san camillo ma tutti coloro che operano poi per nella pastorale sanitaria soprattutto il 27 gennaio alle 18 e 30 nel chiostro comunale di san giovanni rotondo ci sarà una conferenza stampa dove io soprattutto insieme agli operatori laici che valorizzano la valle dell'inferno descriverò un po quello che è avvenuto quella sera e i progetti che abbiamo per valorizzare questo luogo 27 gennaio venerdì poi ce n'è un altro mercoledì primo celebrerò la messa il primo febbraio alle ore 18 presso il santuario santa maria delle grazie proprio dove e lì camillo si è convertito e poi l'indomani che il giorno della conversione arriveranno pellegrini in genere in pullman da napoli da da bucchiani con i relativi sindaci e lì nella parrocchia san leonardo che centrale a san giovanni rotondo alle 9 e 30 il vescovo su eccellenza monsignor michele castoro celebrerà l'eucaristia subito dopo in pellegrinaggio andremo tutti alle valle dell'inferno alle ore 11 e lì faremo la commemorazione della conversione di san camillo il 2 febbraio data che tutti conoscono il neve permettendo perché qualche anno ci ha bloccato totalmente siamo arrivati lì proprio l'anno scorso eravamo scesi dalle macchine dalle auto dai pullman è venuta giù una neve così così densa così fitta che ci siamo dovuti rimettere in macchina e tornare però il pellegrinaggio è avvenuto lo stesso san camillo l'ha gradito ugualmente ci credo grazie padre rosario e buon inizio per queste celebrazioni per questo bel programma grazie